buongiorno ecco qua mio bottino di stamattina al mercato adesso vado a casa vi mostro cosa ho comprato ciao a tutti benvenuti nel mio canale se la prima volta che passate da me io sono floriana quindi mi presento e vi do il benvenuto invece bentornati a tutta la community che mi segui da più tempo iniziamo subito come avete visto dall'introduzione sono stata al mercato e sono andata mattina presto e sono tornata anche presto perché c'è troppo caldo oggi le temperature sono altissime già le 10 del mattino ci sono 35 gradi quindi è dura veramente allora passiamo dalle cose da mangiare che ho acquistato e poi alcune qualcosa di abbigliamento che ho comprato allora iniziamo ho preso una bella fetta che era un quarto di un anguria grande un anguria grande era troppo pesante da portare a piedi perché avevo la macchina distante dal banchetto dove l'ho comprata e quindi ho presa un quarto guardate che bella fettona un profumo buonissimo mi ha assicurato che è anche dolcissima grande questa l'ho pagata 60 centesimi al chilo ora non mi ricordo quanto l'ho pagata esattamente questa però era un buon prezzo per questo l'ho pagata 60 centesimi al chilo mi sembra un buon prezzo perché ultimamente sono abbastanza aumentati i prezzi della frutta andiamo avanti poi ho preso due belle grosse melanzane per quelle che avevo sono terminate poi ho preso un po un chilo di peperoni questi qua cornetto mi piacciono tantissimo si possono fare arrostiti si possono fare in diversi modi poi il signore gentilmente mi ha regalato due cipolle anche quelli sono sempre sempre utile e quindi questa è la seconda busta poi passiamo a questa altra busta qua vediamo cosa c'è ho preso prevalentemente la frutta allora ecco qua infatti qui ho preso più di un chilo un chilo e due le tue che erano di pesche tabacchiere queste qua anche queste fanno un buon profumo io so che dicendo che ascoltando e sentendo in giro in giro hanno detto che appunto bisogna sentire il profumo per capire se sono bene vediamo di solito funziona questo trucchetto poi passiamo all'altra busta avevo proprio non sapevo dove tenerle più quando li ho salite a casa fortunatamente c'è l'ascensore insomma è stato faticoso perché sono pesanti queste buste allora qui invece ho preso le ciliegie eccole qua un po' di ciliegie più che tanta fatta oggi queste in questo banchetto erano quelle che costavano meno costavano 3,50 euro al chilo in altri posti costavano fino a 5 euro al chilo quindi sono dolci poi ho preso invece sempre nello stesso posto dove ho preso le ciliegie perché ho preso in vari banchetti dove mi conveniva di più ho preso queste pesche sono abbastanza grosse vabbè qualcuno esce fuori dalla sua confezione in plastica alcune sono nella busta sono queste queste qua belle grosse queste pesche mi sembra 2 euro al chilo queste e quindi le ho prese vediamo cos'altro c'è allora allora quest'altra bustina in un altro posto ho preso un misto di frutta secca guardate che c'è qua c'è allora il cocco e la banana penso che ci sia il mango avocado c'è un po di tutto è piena piena guardate è piena piena di queste qua e questa l'ho pagata anche poco questa questa vaschettina sono in circa su 2 euro però ce n'è tantissima è veramente è anche abbastanza grande si le faccio della stessa grandezza delle olive si credo di sì la schietta è uguale e allora qui ho preso mezzo chilo di olive miste neri e quelle verdi sono buonissime super condite questo signore in particolare li fanno stra buoni infatti vado a prenderli solo da loro sono voi sono una coppia marito e moglie a volte c'è anche il figlio che lavorano in questo mercato ed è fantastico vengono da un paese qui della sicilia e vengono il sabato nel nostro mercato buonissime ok per quanto riguarda il mangiare la frutta e queste cose mi fermo qui adesso vi mostro un altro banchetto cosa ho preso una cosa un po particolare nel senso però spero che ma sicuramente lo utilizzerò mi ha attirato l'attenzione perché con questo caldo veramente piacevole è un mini ventilatore quindi portatile ha il suo cavetto quindi si ricarica normalmente come insomma si ricarica di cellulari delle uomini eccolo qua vediamo se è già il carico perché lui me l'ha fatto vedere già si mette così si appoggia lo possiamo appoggiare il nostro comodino così per averla portata di mano oppure ce lo possiamo portare con noi ecco ma cioè è pazzesco non lo so se riuscite a vedere ma si muove velocemente e da veramente un ristoro per questo l'ho comprato me l'ha fatto provare ho detto no troppo bello eh guardate troppo carino mamma mia come si sta bene questo lo utilizzerò ah ecco anche la velocità vero lui me l'aveva fatto notare ci sono tre schiacciando quel pulsantino va tre velocità la minima la media la più forte ora l'ho spento troppo bello 4 euro se non sbaglio si 4 euro però secondo me spesi bene perché rinfresca veramente bello va bene l'altro uno spende soldi in sciocchezze e questo è uno di quelle spero di no però io penso che lo utilizzerò poi ho preso uno di questi bicchieri in plastica sono sempre comodi li ho pagati un euro perché li costavano meno e nel supermercato costano di più quindi ho detto vabbè li prendo lì poi una di queste qua che ce ne stanno 10 sacchetti per la pattumiera questi qua grandetti diciamo una media misura e poi sempre un euro ho preso i picchierini quelli piccolini in carta per il caffè con lo zucchero e le palettine questo è tutto questo kit da 50 pezzi l'uno no 25 pezzi l'uno 25 25 25 25 l'ho pagato sempre un euro ok adesso andiamo per quanto riguarda le cose diciamo vestiare o cose così che ho comprato allora ho preso due costumi due costumi perché c'era questo stamattina tutti quanti mi hanno fatto lo scontrino visto tutti lo scontrino sono stati tutti precisi in qualunque posto sono andato mi hanno fatto lo scontrino allora due costumi li faccio vedere subito in questo banchetto costavano i profumi e i profumi va bene costumi il caldo ora sono col condizionatore però il tempo che deve raffreddare un po' l'ambiente perché l'ho acceso adesso quindi i costumi li ho pagati 4 euro quindi a costume c'è tutto il completo sopra e sotto 4 euro non 4 euro a pezzo allora questo è uno spero che mi vada bene mi è piaciuto molto il colore eccolo qui ed è questo è il double face da una parte è tutto verde e da una parte con questi fiori è molto carino quindi questa è la slip e questo è la parte superiore ed è fatto così quindi si allaccia lì dietro molto carino eventualmente me lo cambia se non dovesse andare bene quindi questo 4 euro questo costume poi l'altro invece tutto giallo tutto giallo poi c'è il suo cartellino allora questo com'è fatto è fatto vedi sono ancora legati insieme ora li vado subito a provare così eventualmente vado anche a lavare allora questo è fatto così ha questo fiorellino applicato qua con i laccetti laterali questo bel giallo ha anche carina la trama non so se riuscite a vedere così come è fatto bello e questo è il sopra che mi piace molto come è fatto fatto in questo modo il sopra di questo mi piace di più dell'altro però sono entrambi carini eccolo qua bene anche questo bel giallo ci sta ci sta poi un altro banchetto oggi mi sono rovinata con gli acquisti vabbè comunque ho preso un po' come avete visto poco per 3 euro l'uno allora vediamo cos'altro ho preso anche questo mi è proprio l'ora di provare un completino e una mandatina adesso la faccio vedere allora un completo che comprende che sono con tutte le ok rucce si sono invogliati allora questo completo consiste in questa maglia canottiera color cammello guardate che è carina anche questa definizione che mi è piaciuta con questo bottoncino dorato con la perlina sopra e abbinato proprio insieme il pantaloncino con questo bel colore cammello questa è la taglia unica e quindi spero che mi vada bene mi è piaciuto questo qui l'ho pagato questo completo 10 euro perché mi ha fatto sconto perché costava 12 euro e quindi meglio di niente anzi sono contenta e poi ho preso questa che mi è piaciuta tantissimo è un costo grande che c'è comodissimo una maglietta con lottiera lunghetta ed è fatta così mi è piaciuta questa questa fantasia questa maglia questo questo ricamo soprattutto bellino veramente c'è scritto fabbricata in italia questo capo è stato prodotto in italia wow questo non l'avevo visto ma è in italia bello bello non dovrà anche questo di provarlo ma sicuramente andrà bene ad occhio mi va bene vediamo un po lavare 30 gradi ma è in italia bellino proprio bello questo beige mi piacciono tanto questi colori se mi seguite da tempo lo sapete ok questo è tutto adesso mi dedico dopo che vado a sistemare tutto faccio lavatrice alle pulizie della casa e mi faccio aiutare dal mio validissimo e comodissimo aiuto la mia aspira e lava pavimenti della folletto con quello proprio ho risolto vado subito ciao ci vediamo con un altro video se vi fa piacere naturalmente ciao 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 ciao